Ambiente e politiche del lavoro in capo alla regione, competenze sui servizi sociali divise tra regioni e comuni, polizia provinciale spacchettata quasi completamente tra le varie polizie municipali dei territori di riferimento. La nuova legge regionale sul riordino delle competenze tra gli enti locali, imposto dalle riforme nazionali che prevedono una definizione più stringente di chi deve occuparsi di che cosa, arriva in aula del consiglio regionale per un via libera più che universalmente condiviso e imposto dai tempi. Entro il 31 ottobre infatti la norma prevede che le regioni decidano su quali ambiti devono essere destinati ai vari enti locali, pena il commissariamento. Per questo nonostante i dubbi dei vari gruppi sia di maggioranza che di opposizione sul testo preparato dal vicepresidente della giunta Antonio Inunziante, l'ok alla legge dovrebbe arrivare senza grossi problemi. Molti quesiti che restano ancora aperti, soprattutto legati alle partecipazioni delle province in aziende o fondazioni culturali come l'ICO, Tito Schiepa di Lecce. Ma resta aperta anche la questione del personale. Solo nella città metropolitana di Bari restano in bilico in 150, ma per i sindacati della funzione pubblica si deve parlare anche della destinazione dei dipendenti che finora si sono occupati di ambiti che verranno trasferiti ad altri enti. La presenza nostra qua è quella di sollecitare la regione a decidere in merito alle funzioni non fondamentali delle città metropolitane, quale ho detto l'ambiente, i rifiuti, scuole, cultura e quant'altro. Quindi ci sono dipendenti che appartengono a quelle funzioni che non sanno oggi che fine faranno e dove andranno domani a lavorare. Quindi chiediamo alla regione che venga presa una decisione in merito a queste funzioni non fondamentali delle province. Un tema su cui il presidente della prima commissione Fabiano Amati sottolinea l'importanza di intervenire prima che i dipendenti finiscano in un pericoloso limbo provvisto dalla legge. Se non interveniamo con una certa rapidità sarà iscritto nella piattaforma che è essenziale la legge del rio e il luogo dove poter attingere da parte dei comuni obbligatoriamente il personale che serve e quindi rischieremmo nell'eventualità di un ritardo, di ritrovarci con il riordino ma senza le professionalità che in ogni caso ci sono nelle province. Ecco perché i tempi e la normalità nel procedimento dovrebbero assicurare un prodotto quantomeno digeribile perché naturalmente a nessuno è dato di trasferire il paradiso in terra.